il peccato originale cari amici il peccato originale torno sul tema del peccato originale perché ho ascoltato un bellissimo video di Mauro Billino il bellissimo questo bellissimo video di Mauro Billino ovviamente l'ho trovato su sulla grande vetrina di youtube è un video di sette giorni fa ed è intitolato la costruzione del dio unico io questo video di Mauro Billino intitolato la costruzione del dio unico ve lo metto con il link nel riassunto del mio video così voi poi con un link potete con un click potete ascoltare nella interessa questo video di Mauro Billino intitolato la costruzione del dio unico bene il fatto è che in questo video Mauro Billino arriva anche a parlare del peccato originale sapete no che nel vecchio testamento nel primo libro del vecchio testamento si parla del peccato originale che è il peccato che sarebbe il peccato compiuto da Adamo ed Eva nel disubbidire all'ordine divino Dio aveva detto ad Adamo ed Eva voi ora potete vivere felici e contenti qua nel paradiso terrestre potete fare tutto quello che volete tutto quello tutto quello che volete però non dovete mangiare gli alberi di quel frutto l'albero è l'albero della conoscenza del bene del male insomma non dovete mangiare i frutti di quell'albero invece Adamo ed Eva tentati dal serpente hanno mangiato i frutti di quell'albero e Dio li ha condannati Dio li ha condannati e quello è stato il peccato originale Dio ha detto ah mi avete disubbidito per cui tu Adamo e tutti i tuoi discendenti tu Adamo adesso fuori dal padrio del re guadagnerai il pane col sudore della tua fronte e tu Eva partorirai con dolore questo sarebbe il peccato originale descritto nel libro Genesi del vecchio testamento ovviamente Mario Billino Billino dice che no nel vecchio testamento non si parla del peccato originale così come Mauro Billino conoscendo la lingua in cui il vecchio testamento è stato scritto ci dice che ci parla degli Elohim ma Mauro Billino dice che non c'è il mito nella Bibbia non si parla nel vecchio testamento non si parla di peccato originale sì sì questo a me interessa poco perché la Bibbia è quello che è la Bibbia è quello che è Mauro Billino la sta smontando la sta smontando ma la Bibbia è quello che è passare della Bibbia è come parlare scusa abisi signora verbis dell'Iade dell'Odissea dell'Eneide è una raccolta dei miti scusate di favole oggi si direbbe di leggende metropolitane il fatto è che l'umanità ha compiuto davvero il peccato originale e io l'ho descritto in quest'opera vedete quest'opera è stata pubblicata nel 2019 dalla casa editrice Leoni Edizioni eccola qua però quest'opera era già apparsa vent'anni fa vent'anni fa era già apparsa in Italia è già apparsa per i tipi di un'altra casa editrice un'altra casa editrice poi Leoni Edizioni ha voluto ripresentarla al pubblico italiano e qua qua io ho parlato del peccato originale l'ho già parlato il peccato originale ora torno a parlare del peccato originale cioè il vero peccato originale quale fu il vero peccato il vero peccato originale e il vero peccato originale avviene con il passaggio dell'umanità dal matriarcato al patriarcato la differenza sostanziale tra matriarcato e patriarcato è che in matriarcato non c'era la proprietà privata in patriarcato c'è la proprietà privata per cui essendoci la proprietà privata in patriarcato ci sono pochissimi ricchi e moltissimi poveri ci sono i liberi e ci sono i servi ma perché l'umanità passa dal matriarcato al patriarcato le teorie sono tante le teorie perché l'umanità poteva restare in matriarcato no in matriarcato non c'era la proprietà privata si poteva restare in matriarcato chi gliel'ha fatto fare all'umanità di passare dal matriarcato al patriarcato chi è che gliel'ha fatto fare le teorie sono tante 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 però c'è la teoria di Serafino Massoni c'è la teoria di Serafino Massoni che è stata descritta qua nella stampa del serpente e beh Serafino Massoni per chi non lo sapesse è questo signore qua va bene qua si parla di Serafino Massoni vedete Serafino Massoni è uno che ha già compiuto 83 anni vedete ha insegnato filosofia e storia nei licei classici e scientifici è stato preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici ha scritto tanti 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 libri allora in che consiste il vero peccato originale compiuto dall'umanità non è proprio un peccato è una scoperta è una scoperta è una scoperta una scoperta no ci sono le scoperte ci sono è una scoperta questa scoperta consiste nel fatto che a un certo punto l'umanità si rende conto che lo sperma lo sperma lo sperma lo sperma lo sperma non è una una secrezione come scusatemi come la saliva non è una secrezione come il sangue quando c'è le donne hanno le mestruazioni lo sperma serve per fare i bambini lo sperma perché in matriarcato si pensava che le donne i bambini li facessero da sole per migliaia 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 di anni non si era capito che c'era un rapporto tra l'atto sessuale e la nascita dei bambini perché non è che appena tu hai un atto sessuale subito dopo nasce un bambino perché nasca un bambino passano nove mesi nove mesi sono tanti eh nove mesi sono tanti e per esempio l'umanità ha impiegato tanto tempo ad arrivare all'anno solare e prima c'era l'anno lunare l'u lunare capito l'anno lunare prima l'anno solare invece l'umanità ci arriva tardi e l'umanità arriva tardi pure alla scoperta dell'energia nucleare eppure l'energia nucleare c'è sempre stata ecco quindi l'umanità a un certo punto scopre che lo sperma non è una secrezione come tutte le altre no no serve per fare i bambini e per cui si pone il problema di sapere di chi è il bambino fatto da quella donna là cioè ogni uomo si pone il problema di dire ma chi è il padre chi è il padre oggi si fa l'accertamento genetico della paternità ma allora mica c'era l'accertamento genetico della paternità capito? beh insomma guardate io non voglio tirarla troppo per le lunghe va bene perché di questa vicenda ho già parlato tanto 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 tempo vi spiego comunque che con la scoperta della funzione dello sperma l'umanità si rende conto che la nascita dei bambini non è più un atto involontario perché in matriarcato si pensava che i bambini nascevano dalle donne per conto loro così come le mestruazioni sono un atto involontario una donna amica dice adesso voglio voglio fare le mestruazioni vengono e basta le mestruazioni così in matriarcato si pensava che la nascita dei bambini fosse un atto involontario i bambini nascevano punto e basta ma con la scoperta della funzione dello sperma l'umanità si rende conto che la nascita dei bambini non è un atto involontario ma è un atto volontario il bambino nasce se si vuole se si vuole se si vuole perché se non si vuole che nasca un bambino si fanno le cose quelle cose diverse si fanno le cose diverse si fa c'è il coito anale c'è c'è il coito orale coito orale c'è come si chiama l'affellazio quante cose che ci sono ma facendo quella cosa là in maniera precisa e nascono i bambini è un atto volontario è un atto volontario questo è il peccato originale vuol dire perché e perché e perché quando l'umanità scopre che la nascita dei bambini è un atto volontario dei genitori e perché è un peccato perché è un peccato e perché perché il mondo è fatto di tribolazioni di malattie di vecchiaia il mondo è fatto di tribolazioni di malattie di vecchiaia vecchiaia non è proprio una bella cosa venite qua al fondo al mondo non è una bella cosa e nasce il senso di colpa nasce il senso di colpa santo cielo nasce il senso di colpa dell'umanità io qua mi fermo qua mi fermo qua ho voluto spiegare a Mauro Biglino che è il peccato originale c'è 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 e consiste nel passaggio dell'umanità dal matriarcato al patriarcato e com'è che l'umanità passa dal matriarcato al patriarcato l'umanità passa dal matriarcato al patriarcato con la scoperta della funzione dello sperma con la scoperta della funzione dello sperma nasce pure il senso di colpa capito? qua mi fermo qua mi fermo qua mi fermo e qua mi fermo casomai non mi fossi spiegato adeguatamente voi non dovete far altro che andare in libreria e comprare una bella copia della stirpe del serpente va bene cari amici a Mauro Biglino e a tutti voi tanti cari saluti dalla stirpe del serpente ciao